Grover si fa una Lamborghini. Stavamo attraversando il Potomac quando scorgemmo l'elicottero. Era un grosso apparecchio da combattimento nero e lucido, proprio come quello che avevamo visto a Westover Hall, e puntava verso di noi. «Conoscono il furgone», dissi. «Dobbiamo abbandonarlo». Zoe sterzò nella corsia di sorpasso. L'elicottero guadagnava terreno. «Forse l'esercito lo abbatterà», suggerì Grover speranzoso. «Lo scambieranno per uno dei loro», replicai io. «Come fa il generale a servirsi dei mortali, a proposito?» «Mercenari», rispose Zoe amareggiata. «È un'infamia, ma molti mortali sono disposti a combattere per qualunque causa, in cambio di denaro». «Ma non capiscono per chi stanno lavorando», chiesi. «Non si accorgono dei mostri?» Zoe scosse la testa. «Non so quanto riescano a vedere attraverso la foschia, ma dubito che farebbe qualche differenza se conoscessero la verità. Talvolta i mortali sanno essere più orribili dei mostri». L'elicottero continuava ad avvicinarsi, viaggiando molto più in fretta di noi che eravamo nel traffico di Washington. Talia chiuse gli occhi e pregò intensamente. «Ehi, papà, un fulmine ci farebbe proprio comodo, adesso. Per favore». Ma il cielo rimase grigio e gonfio di neve. Non c'era nessun temporale propizio in arrivo. «Laggiù!» esclamò Bianca. «In quel parcheggio! Così finiremo in trappola!» protestò Zoe. «Fidati di me!» replicò Bianca. Zoe attraversò due corsie di traffico e imboccò un parcheggio sulla riva meridionale del fiume. Lasciammo il vagone e seguimmo Bianca giù per delle scale. «È un ingresso della metro», ci spiegò. «Andiamo a sud, ad Alexandria». «Purché ce la filiamo?» approvò Talia. «Comprammo i biglietti e superammo i tornelli, controllando che non ci seguisse nessuno». Pochi minuti dopo eravamo a bordo di un treno diretto a sud e ci allontanavamo da Washington, sani e salvi. Quando il vagone emersi in superficie, scorgemmo l'elicottero che volteggiava sopra il parcheggio, ma non si mise al nostro inseguimento. Grover liberò un sospiro. «Sei stata grande a pensare alla metropolitana!» Bianca ne fu contenta. «Oh, beh, avevo visto la stazione con Nico quando siamo passati di qui l'estate scorsa. Ricordo che mi aveva stupito molto, perché non c'era quando noi abitavamo a Washington». Grover aggrottò la fronte. «Dici che è nuova? A me sembrava molto vecchia». «Sara», rispose Bianca, «ma ti assicuro che la metro non c'era quando vivevamo qui da piccoli». Talia si sporse un po' in avanti. «Aspetta un minuto, vuoi dire che non c'era per niente la metro?» Bianca annui. «Ora, io non sapevo nulla di Washington, ma non capivo come l'intera rete metropolitana della capitale potesse avere meno di dodici anni. Probabilmente anche gli altri stavano pensando la stessa cosa, perché sembravano piuttosto perplessi». «Bianca?» intervenne Zoe. «Quanto tempo fa?» Si interruppe. Il rumore dell'elicottero si stava di nuovo intensificando. «Dobbiamo andarcene», dissi io. «Scendiamo alla prossima». Nel corso della mezz'ora successiva pensammo solo a metterci in salvo. Cambiamo treno due volte. Non avevo idea di dove stessimo andando, ma in breve seminammo l'elicottero. Purtroppo, quando alla fine scendemmo, ci ritrovammo al Capolinea, in una zona industriale in cui non c'era nulla a parte i binari e i magazzini. E la neve. Un sacco di neve. Sembrava molto più freddoli. Meno male che avevo la mia nuova pelliccia di leone. Ci aggirammo nel cortile della stazione, sperando di trovare un altro treno utile, ma c'erano soltanto file e file di carri merci, la maggior parte dei quali coperti di neve, come se non si muovessero da anni. Un senza tetto si scaldava al fuoco di un bidone. Probabilmente avevamo un'aria piuttosto patetica, perché ci rivolse un sorriso stentato e disse «Serve una scaldatina? Venite!» Ci stringemmo attorno al suo fuoco. Talia batteva i denti. Disse «Fantastico!» «Mi si sono congelati gli zoccoli», si lamentò Grover. «I piedi», corressi, a beneficio del senza tetto. «Forse dovremmo contattare il campo», disse Bianca. «Chirone no», esclamò Zoe. «Non possono più assisterci. Dobbiamo finire quest'impresa da soli». Scrutai a Franto il cortile della stazione. Da qualche parte, a Ovest, Annabeth era in pericolo. Artemide era in catene. Un mostro apocalittico era in circolazione. E noi eravamo bloccati alla periferia di Washington, a condividere il fuoco di un senza tetto. «Sapete», intervenne l'uomo, «non si rimane mai del tutto senza amici». Aveva la faccia sudicia e la barba arruffata, ma l'espressione sembrava gentile. «Vi serve un treno per l'Ovest, ragazzi». «Sì, signore», risposi. «Sa se ce n'è uno?» L'uomo alzò una mano bisunta per indicare qualcosa. A un tratto notai un treno merci, scintillante e sgombro di neve. Era uno di quei convogli per il trasporto delle automobili, con le reti d'acciaio di protezione e tre piani carichi di macchine. Sul fianco del treno c'era scritto «S.O.L.E. Trasporti», linea Ovest. «Beh, comodo», commentò Talia. «Grazie, eh...» Si voltò, ma il senza tetto era sparito. E il bidone era freddo e vuoto, come se l'uomo si fosse portato via le fiamme. Un'ora dopo sfrecciavamo a tutta birra in direzione Ovest. Non fu un problema stabilire chi dovesse mettersi alla guida, perché ognuno aveva la sua macchina di lusso personale. Zoe e Bianca si erano sistemate su una Lexus all'ultimo piano. Grover giocava al pilota del Gran Premio al volante di una Lamborghini. Italia era riuscita ad accendere la radio di una Mercedes SLK nera e riceveva tutte le stazioni di rock alternativo della capitale. «Si può?» le chiesi. Lei fece spallucce, così mi sedetti avanti. La radio stava mandando i White Stripes. Conoscevo la canzone, perché era l'unico dei miei CD che piacesse anche a mia madre. Diceva che le ricordavano i Led Zeppelin. Mi rattristai pensando a lei, perché mi sembrava improbabile che avrei passato il Natale a casa. Forse non sarei vissuto così a lungo. «Bel cappotto», mi disse Talia. Me lo strinsi addosso, grato per il calore. «Già, ma il leone Nemeo non era il mostro che stiamo cercando. Non ci si avvicinava nemmeno. Abbiamo ancora tanta strada da fare. Qualunque cosa sia questo essere misterioso, il generale ha detto che sarebbe venuto da te. Volevano isolarti dal gruppo, così il mostro sarebbe apparso e vi sareste battuti uno contro uno». «Ha detto così?» «Beh, qualcosa del genere. Sì». «Fantastico. Adoro fare da esca. Hai idea di cosa possa essere?» Lei scosse la testa, scontrosa. «Ma sai dove stiamo andando, vero? San Francisco». «È lì che era diretta Artemide». «Mi ricordai di qualcosa che aveva detto Anna Betalballo. Di come il padre si fosse trasferito a San Francisco e di come per lei fosse impossibile seguirlo. I mezzosangue non potevano vivere là. «Perché?» chiesi. «Che problema c'è a San Francisco?» «La foschia è molto fitta per via della vicinanza con la montagna della disperazione. La magia dei titani, o quel che ne rimane, è ancora nell'aria. È incredibile quanto i mostri ne siano attratti. Cos'è la montagna della disperazione?» «Talia inarcò un sopracciglio». «Davvero non lo sai? Chiedilo a quella stupida di Zoe. È lei l'esperta». Guardò con gli occhi torvi fuori dal finestrino. Avrei voluto chiederle di cosa stesse parlando, però non avevo alcuna intenzione di fare la figura dell'idiota. Detestavo avere la sensazione che Talia ne sapesse più di me. Perciò, teni la bocca chiusa. Il sole del pomeriggio brillò attraverso la rete d'acciaio del treno merci, gettando un'ombra sul suo viso. Pensai a quanto fosse diversa da Zoe. Zoe, formale e distaccata come una principessa, Talia, con i vestiti trasandati e il piglio ribelle. Eppure, c'era anche qualcosa di simile in loro. Lo stesso genere di durezza. In quel momento, seduta nella penombra con un'espressione cupa in viso, Talia somigliava molto a una cacciatrice. Poi, all'improvviso, capì. Ecco perché non vai d'accordo con Zoe. Talia si accigliò. Cosa? Le cacciatrici hanno cercato di reclutarti, risposi. Le si accese una luce pericolosa negli occhi. Pensai che stesse per sbattermi fuori dalla Mercedes. Ma si limitò a sospirare. Stavo quasi per accettare, ammise. Io, Luke e Annabeth ci imbattemmo in loro una volta. E Zoe cercò di convincermi. C'era quasi riuscita, ma... Ma? Serrò le dita sul volante. Avrei dovuto lasciare Luke. Oh! Io e Zoe litigammo. Mi diede della stupida. Disse che avrei rimpianto la mia scelta. E che Luke, un giorno, mi avrebbe deluso. Scrutai il sole attraverso la cortina di metallo. Sembravamo viaggiare sempre più veloci ogni secondo. Le ombre che sfarfallavano come in un vecchio proiettore cinematografico. Una brutta storia? Commentai. Deve essere difficile ammettere che Zoe aveva ragione. Ma non è vero? Luke non mi ha mai deluso. Mai. Ci troveremo a combattere contro di lui. Spiegai. Sarà inevitabile. Talia non rispose. Tu non lo vedi da molto tempo, l'avvertì. So che è difficile da credere, ma... Farò quello che devo fare. Anche se significasse doverlo uccidere. Fammi un favore, rispose. Scendi dalla macchina. Mi quando mi voltai, vidi che aveva gli occhi rossi, ma non so se fosse per la rabbia o per la tristezza. Anche Annabeth voleva unirsi alle cacciatrici. Forse dovresti chiederti il perché. Prima che avessi il tempo di rispondere, sollevò i finestrini elettrici e mi chiuse fuori. Mi sedetti al volante della Lamborghini di Grover, con lui che dormiva dentro. Aveva finalmente rinunciato a far colpo su Zoe Bianca suonando il flauto, dopo che con Poison Ivy aveva fatto spuntare l'edera della canzone dal climatizzatore della loro Lexus. Mentre osservavo il sole che tramontava, pensai ad Annabeth. Avevo paura di addormentarmi. Ero preoccupato di cosa avrei potuto sognare. Non avere paura dei sogni, esclamò una voce proprio accanto a me. Mi voltai? Non so perché, ma non fui sorpreso di trovare il senzatetto della stazione seduto al mio fianco. Portava dei jeans talmente logori da sembrare quasi bianchi e aveva un piumino strappato con l'imbottitura che sbucava fuori. Somigliava un po' a un orsetto di peluche investito da un camion. «Se non fosse per i sogni», continuò, «saprei la metà delle cose che so sul futuro. Sono meglio dei giornali scandalistici dell'Olimpo». Si schiarì la gola, poi sollevò le mani in un gesto melodrammatico. «Podcast di sogni scaricano verità. È roba forte». Apollo intuì perché nessun altro poteva inventarsi un haiku così orrendo. Lui si portò un dito alle labbra. «In incognito». «Chiamami Fred». «Un dio che si chiama Fred?» «Eh, beh, Zeus ci tiene parecchio a certe regole. Giù le zampe dalle imprese mortali. Anche quando succedono cose davvero brutte. Ma nessuno può azzardarsi a toccare la mia sorellina. Nessuno». «Allora ci aiuterà». «Shh! L'ho già fatto». «Non avete guardato fuori?» «Il treno? Quanto va veloce?» «Apollo ridacchiò». «Quanto basta?» «Purtroppo non abbiamo più molto tempo. È quasi il tramonto». «Ma almeno avete attraversato un bel pezzo d'America, immagino». «Ma dov'è Artemide?» «Si accigliò?» «So molte cose e vedo molte cose. Ma questo sfugge perfino a me. Qualcosa la offusca alla mia vista. Non mi piace». «E Annabeth?» «Il dio si accigliò». «Oh, vuoi dire la ragazza che avete perso?» «Mmm... non lo so». «Cercai di non arrabbiarmi. Sapevo che per gli dèi era difficile prendere i mortali sul serio, inclusi mezzo sangue. La nostra vita era così breve in confronto alla loro». «E cosa può dirmi del mostro che Artemide stava cercando?» chiesi. «Sa di cosa si tratta?» «No», rispose Apollo. «Ma forse c'è qualcuno che lo sa». «Se ancora non lo avete trovato, quando sarete a San Francisco, andate a cercare Nereo, il vecchio del mare. Ha la memoria lunga e la vista acuta. E il dono di conoscere le cose oscure, talvolta pronunciate dal mio oracolo». «Ma è il suo oracolo?» protestai. «Non può dirci cosa significa la profezia?» Apollo sospirò. «Sarebbe come chiedere a un artista di spiegare la sua arte, o a un poeta di spiegare la sua poesia». Vanifica lo scopo. Il significato si chiarisce solo attraverso la ricerca. In altre parole, non lo sa». Apollo controllò l'orologio. «Ah, ma guarda com'è tardi! Devo scappare. Dubito di poter correre il rischio di aiutarvi di nuovo, Percy, ma ricordati quello che ti ho detto. Cerca di dormire. E quando ritornerai, mi aspetto di sentire un buon Aiku sul tuo viaggio». Volevo protestare, dirgli che non ero stanco e che non avevo mai scritto un Aiku in vita mia, ma Apollo schioccò le dita e un attimo dopo stavo già chiudendo gli occhi. Nel mio sogno ero un'altra persona. Indossavo una tunica greca che faceva circolare un po' troppa aria ai piani bassi e dei sandali con i lacci di cuoio. La pelle del leone Nemeo mi avvolgeva come un mantello e correvo da qualche parte, trascinato da una ragazza che mi teneva forte per mano. «Svelto!» mi disse. Era troppo buio per vederla chiaramente in viso, ma riconobbi la paura nella sua voce. «Ci troverà!» Era notte. Il cielo risplendeva di un milione di stelle. Correvamo nell'erba alta e l'aria era densa del profumo inebriante di un migliaio di fiori diversi. Era un giardino bellissimo, eppure la ragazza mi faceva strada come se stessimo andando incontro alla morte. «Non ho paura!» cercai di dirle. «Invece dovresti!» replicò lei, trascinandomi. Aveva lunghi capelli scuri intrecciati sulla schiena. La sua veste di seta scintillava debolmente al chiarore delle stelle. Corremmo su per il fianco di una collina. Mi attirò dietro un cespuglio di rovi e crollammo entrambi a terra, con il fiato grosso. Non sapevo perché avesse tanta paura. Il giardino sembrava così sereno. E io mi sentivo forte, più forte di quanto mi fossi mai sentito in vita mia. «Non c'è bisogno di scappare», insistetti. La mia voce sembrava più profonda e molto più sicura. «Ho sconfitto centinaia di mostri a mani nude». «Questo è diverso», rispose la ragazza. «L'adone è troppo forte. Devi fare il giro e salire sulla montagna, da mio padre». «Non vi è altro modo». «Non mi fido di tuo padre», replicai. «Fai bene», concordò lei. «Dovrai trarlo in inganno. Ma non puoi prendere il tesoro direttamente o morirai». Io ridacchiai. «Allora perché non mi aiuti tu, mia bella?» «Io ho paura». «L'adone me lo impedirà. Se lo scoprissero le mie sorelle, mi rinnegherebbero». «Allora non c'è altro da fare». Mi alzai, strofinandomi le mani. «Aspetta», esclamò la ragazza. sembrava tormentata, come se stesse prendendo una decisione sofferta. Poi, con le mani tremanti, si portò una mano ai capelli ed estrasse una lunga spilla bianca. «Se proprio devi combattere, prendi questa. È stata mia madre, Pleione, a donarmela. Era una figlia dell'oceano e questa spilla ha in sé il potere dell'oceano. Il mio potere immortale». La ragazza alitò sul gioiello, che mandò un debole bagliore, scintillando al chiarore delle stelle come una conchiglia levigata. «Prendila», mi disse, «e fanne la tua arma». Io risi. «Una forcina? Come farà a uccidere ladone, mia bella?» «Forse non lo ucciderà», ammise lei. «Ma non ho altro da offrirti, se continui a incaponirti così». La voce della ragazza mi intenerì. Accettai il gioiello e non appena lo ebbi in mano, cominciò a trasformarsi. Divenne più lungo e più pesante, finché non mi ritrovai a stringere in pugno una familiare spada di bronzo. «E' bilanciata bene», commentai. «Anche se di solito preferisco combattere a mani nude. Come dovrò chiamarla?» «Anaclusmus», rispose la ragazza in tono mesto. La corrente improvvisa che assale i marinai di sorpresa, trascinandoli via con sé. Prima che potessi ringraziarla, si udì un calpestio nell'erba, seguito da un sibilo, come di aria che esce da una gomma. E la ragazza esclamò «Troppo tardi! È qui!». Mi svegliai di soprassalto sul sedile anteriore della Lamborghini. Grover mi stava scrollando per il braccio. «Persi», disse. «È mattina». Il treno si è fermato. «Andiamo!». Cercai di scrollarmi la sonnolenza di dosso. Talia, Zoe e Bianca avevano già forzato la rete. Fuori c'erano montagne innevate e cosparsi di pini e un sole rosso sorgeva fra due picchi. Mi sfilai la penna dalla tasca e la studiai. «Anaclusmus», il nome in greco antico di vortice. La forma era diversa, ma era la stessa arma che avevo visto nel sogno. Ne ero certo. Ed ero certo anche di un'altra cosa. La ragazza era Zoe Nightshade.